benvenuti ragazzi bentornati in questo mio nuovo video ragazzi quest'oggi siamo tornati nuovamente qui sul canale con delle nuove news ragazzi siamo tornati qui finalmente come dal titolo il nuovo canale live streaming è stato aperto io comunque questo è un piccolo ma breve video per dirvi che ho aperto il canale lo trovate sotto qua sotto in descrizione al primo rigo trovate il link del canale quindi mi raccomando ragazzi cliccate là sotto in descrizione per aprire il canale e mi raccomando iscrivetevi attivando la campanellina caso mai vogliate vedere un po' vi faccio vedere due secondi ecco ragazzi per farvi vedere brevemente un po' il piccolo si lasciate stare l'immagine di profilo che in questo momento è you are banned ma sto ancora cercando di cambiare l'immagine e ancora modificarla ancora meglio perché comunque quella là è diciamo un po' provvisoria comunque banner fatto da me comunque diciamo che è una cosa provvisoria per il momento poi vedremo meglio nel futuro comunque il canale è così si chiama mrkree trattino live streaming perché mrkree sbarra live streaming non me lo faceva mettere non so il perché ho già fatto appunto una live così di prova per vedere se tutto andava bene e diciamo che è tutto perfetto quindi ragazzi questo era un piccolissimo e breve video per farvi per dirvi che appunto il canale live streaming per le live streaming è stato creato quindi mi raccomando in descrizione ripeto mi raccomando al primo rigo trovate il link per il nuovo canale mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video oppure in una prossima live ciao ciao